Sono Pasquale Falzarano, sono dipendente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, lavoro nell'ufficio che si occupa di agricoltura e ambiente e negli ultimi anni mi sono occupato prevalentemente del recepimento della direttiva 128 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Ho anche partecipato al Consiglio Tecnico Scientifico in cui sono rappresentati tre ministeri competenti delle regioni e insieme a tutti gli altri colleghi abbiamo elaborato la bozza di piano d'azione nazionale che è stata adottata nel 2014 e in questo periodo ci stiamo occupando della revisione dello stesso piano d'azione che è stato posto in consultazione pubblica tra luglio e ottobre scorso e stiamo definendo il testo da sottoporre all'approvazione definitiva dei tre ministri competenti. In questa lezione parleremo appunto del piano d'azione nazionale, della sostenibilità legata all'uso dei prodotti fitosanitari che è il tema che in qualche modo indirezzerà anche in parte la nuova politica agricola comune post 2020. Prima di entrare nel dettaglio dei temi della nostra chiacchierata penso sia opportuno fare un inquadramento normativo. Nel 2009 assistiamo ad una rivoluzione normativa a livello europeo in quanto vengono emanati tre provvedimenti che hanno inciso profondamente lungo tutta la filiera dei prodotti fitosanitari. Le norme in questione riguardano il regolamento 1107 sull'immissione in commercio dei fitofarmaci, il regolamento 1185 sulle statistiche relative ai dati di vendita delle sostanze attive e infine la direttiva 128 che ne disciplina l'uso. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 150 del 2012 a cui ha fatto seguito l'adozione del PAN, un piano d'azione quinquennale con il quale sono stati stabiliti obiettivi e misure da attuare per rendere sostenibile l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il PAN è attualmente in fase d'aggiornamento. L'attuazione della direttiva in Italia è abbastanza articolata, il decreto legislativo 150 assegna la competenza della materia a tre ministeri, politica agricole, ambiente e salute. Poi sono coinvolte le regioni che hanno l'onere dell'attuazione delle misure sul territorio, come sapete la materia agricola per costituzione è competenza esclusiva delle regioni. Lo stesso decreto 150 prevede però l'istituzione di un consiglio tecnico scientifico, CTS, che ha il compito di supportare le amministrazioni competenti nell'attuazione, nel monitoraggio e nel controllo delle misure previste dal PAN. Nella slide vedete rappresentate le prossime tappe che porteranno all'adozione del nuovo PAN. A seguito della consultazione pubblica, conclusasi lo scorso 15 ottobre, il CTS valuterà le osservazioni pervenute e redigerà un nuovo testo che sarà sottoposto ai tre ministeri competenti. L'approvazione del PAN sarà effettuata con la firma di un degredo interministeriale previ acquisizione dell'intesa della conferenza Stato-Regioni. L'obiettivo principale della direttiva e del PAN è la riduzione dei rischi e degli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Nel PAN sono elencati anche altri obiettivi che concorrono comunque al raggiungimento di quello generale, quali promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi all'uso dei prodotti fitosanitari, proteggere gli utilizzatori e la popolazione interessata, tutelare i consumatori. La normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari interviene nel disciplinare una molteplicità di settori coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi generali. In primo luogo abbiamo la formazione, essa riguarda i soggetti che vendono, acquistano, utilizzano oppure fanno consulenza sui prodotti fitosanitari, ma anche il controllo funzionale delle macchine e i lavoratrici, la tutela dell'ambiente acquatico, la tutela delle aree Natura 2000, la riduzione d'uso in ambito extraagricolo, la corretta manipolazione e stoccaggio, la difesa integrata, fondamentale per la piena attuazione della direttiva 128, come sostiene anche la Commissione, ma è anche l'obiettivo più difficile da raggiungere, come vedremo in seguito, una corretta informazione e sensibilizzazione, ma anche la ricerca e infine gli indicatori che servono a misurare i risultati ottenuti. Per ognuno di questi settori il PAN individua misure specifiche. Nelle slide successive analizzeremo, seppur non in maniera esaustiva, alcune di queste misure. E partiamo dalla formazione. La direttiva 128 punta molto sulla formazione indispensabile per orientare e migliorare i comportamenti dei soggetti che hanno a che fare con i prodotti fitosanitari. Nella slide vedete i tre soggetti che devono essere obbligatoriamente formati ai sensi della direttiva. Come si fa a conseguire le diverse abilitazioni? Per l'utilizzatore professionale è necessario avere 18 anni di età, si effettua un corso di 20 ore per la formazione di base e di 12 ore per quella d'aggiornamento. Per distributori e consulenti invece occorre possedere specifici titoli di studio che sono previsti dal decreto 150. Il corso di base è di 25 ore e quello di aggiornamento di 12 ore. Tutti i soggetti devono sostenere un esame con valutazione positiva presso la regione d'appartenenza e tutte le abilitazioni hanno 5 anni di validità. Vediamo ora a che punto siamo con l'attuazione della misura formazione. I dati di cui disponiamo sono relativi al 31 dicembre 2017. A tale data risultavano rilasciati circa 440.000 certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, i cosiddetti patentini, su un totale presunto di circa 800.000. Va precisato che il patentino può essere conseguito da tutti coloro che intendono acquistare o usare prodotti fitosanitari per uso professionale. Per i distributori le abilitazioni rilasciate a quella data risultavano circa 10.000, mentre per i consulenti il numero era di circa 5.300. Per controllo funzionale si intende l'insieme delle verifiche e controlli eseguiti con l'ausilio di apposita attrezzatura e seguendo uno specifico protocollo di prova per valutare la corretta funzionalità dei componenti di una macchina erroratrice. Gli obiettivi della misura sono migliorare l'efficienza dei trattamenti, ridurre le quantità di prodotti fitosanitari utilizzati, ridurre i rischi per gli operatori e gli astanti e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente. Nella slide, oltre al controllo funzionale, sono elencate anche altre due modalità di intervento da operare sull'erroratrice per garantire il suo corretto funzionamento. Regolazione o taratura in manutenzione periodica eseguita dagli utilizzatori in azienda. Regolazione o taratura strumentale effettuata presso i centri prova. La direttiva prevedeva che entro il 26 novembre 2016 tutte le erroratrici in uso fossero sottoposte a controllo funzionale almeno una volta, con un intervallo di 5 anni fino al 2020 e in seguito di 3 anni. I numeri ci dicono che questa misura è stata scarsamente applicata. Su 600.000 erroratrici stimate presenti sul territorio sono state controllate al 2017 solo 150.000, e cioè il 25% circa. A sostegno della necessità di controllare le macchine erroratrici è utile dare uno sguardo a questa slide, dove è rappresentato il destino della miscela fitoiatrica nel caso di trattamento su colture arboree. Come vedete, il fenomeno della deriva rappresenta un problema. La miscela che raggiunge il bersaglio è solo una percentuale che oscilla tra il 15% e il 50%. Capite quindi che i margini per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari sono altissimi. Il controllo funzionale viene effettuato per tale motivo, ma molto possono fare le nuove tecnologie cosiddette di precisione. La direttiva 128 ha previsto che dal 1 gennaio 2014 la difesa delle culture debba essere effettuata attraverso l'applicazione dei principi della difesa integrata che sono stati inseriti nell'allegato 3 della stessa direttiva. Da quella data quindi possiamo affermare che non si può più parlare di agricoltura convenzionale. Nel PAN sono individuate tre tipologie di produzione agricola e di difesa delle culture. La difesa integrata, la produzione integrata realizzata nel rispetto dei disciplinari di produzione. Da qualche anno si sta procedendo anche alla certificazione delle produzioni secondo un sistema di qualità che vedremo nelle slide successive. E infine l'agricoltura biologica. L'allegato 3 della direttiva 128 elenca i principi della difesa integrata. Preferenza metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici. Cioè per la difesa delle culture è necessario utilizzare tutti i metodi alternativi all'uso della chimica e fare ricorso ad essa solo quando è strettamente necessario. E anche in tali casi preferire prodotti fitosanitari meno pericolosi per l'ambiente e per la salute umana. E poi adottare tutte le pratiche agronomiche che contengono lo sviluppo dei patogeni come rotazioni culturali, pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e irrigazione, cultivar resistenti e tolleranti, sementi e materiali di moltiplicazione standard, non fare trattamenti a calendario ma intervenire solo sulla base di monitoraggio degli organismi nocivi e quindi rispettando le cosiddette soglie di intervento. E infine utilizzare dosi ridotte, meno trattamenti e trattamenti localizzati e diversificazione dei prodotti per evitare fenomeni di resistenza. L'immagine che vediamo in questa slide è la rappresentazione grafica della difesa integrata secondo la Commissione europea. L'applicazione di pratiche agronomiche, l'utilizzo di sistemi di monitoraggio, previsione e allarme, di tecniche di contenimento fisiche e meccaniche, controllo biologico dei patogeni, dovrebbero determinare un ricorso minimo all'impiego dei prodotti fitosanitari, che rappresenta l'ultimo triangolino in alto della piramide. Al di là dei modelli teorici comunque, la Commissione europea ha preso atto delle difficoltà dell'applicazione di tali principi e soprattutto delle difficoltà nei controlli. Sul tema della difesa integrata delle colture, in Italia abbiamo una lunga esperienza in quanto da tempo abbiamo istituito sistemi di monitoraggio delle avversità e distribuito bollettini fitosanitari agli agricoltori per orientarli nella scelta delle sostanze attive e soprattutto dando indicazioni sul momento opportuno per intervenire. Il PAN ha reso obbligatorio per le regioni la messa a disposizione di bollettini fitosanitari quando la Commissione europea ha svolto in Italia la visita conoscitiva sullo stato di applicazione della direttiva, nel maggio 2017, ha mostrato apprezzamento per il nostro sistema pubblico di monitoraggio e diffusione delle informazioni, considerandolo buona prassi da divulgare in Europa. Le aziende agricole hanno invece l'obbligo di conoscere, di sporre direttamente o avere accesso alle informazioni messe a disposizione dalle regioni. Il limite del sistema, comunque, come evidenziato dalla stessa Commissione, è che non ci sono altri obblighi controllabili in relazione ai principi della difesa integrata. Come abbiamo visto in precedenza, oltre alla difesa integrata ci sono altri due sistemi produttivi a basso impatto. Il primo è la produzione integrata, è un sistema che si basa sull'applicazione e il rispetto di disciplinari di produzione, è di tipo volontario e finanziato da una misura dello sviluppo rurale. Il premio si basa sul riconoscimento dei maggiori costi e dei minori ricavi che si conseguono rispettando gli impegni del disciplinare di produzione. Con la legge 4 del 3 febbraio 2011, che ha istituito il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata, è possibile certificare la produzione. Il simbolo, come vedete, è l'Ape. Nel 2017 il numero di ettari certificati è stato pari a circa 142.000, mentre l'intera superficie condotta con l'applicazione dei disciplinari è di circa 750.000 ettari. Infine abbiamo l'agricoltura biologica. L'Italia è uno dei primi paesi in Europa per il numero di ettari coltivati con tale metodo, disciplinato con apposito regolamento comunitario. Nel 2017 oltre il 15% della superficie agricola utilizzata e oltre 1.900.000 ettari risultava condotto con tale metodo. La manipolazione, lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze è un articolo specifico della direttiva e un capitolo dedicato nel PAN. Il comportamento adeguato da osservare durante tutte le fasi in cui si viene a contatto con i prodotti fitosanitari è fondamentale per ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente. Gli esperti dicono, per esempio, che le operazioni di riempimento e lavaggio delle aeroratrici rappresentano una delle più importanti cause di inquinamento puntiforme delle acque superficiali. Nella slide vedete rappresentate tutte le fasi in cui è necessario agire correttamente per ridurre o eliminare il rischio per la salute umana e per l'ambiente. In queste ultime slide proviamo a descrivere brevemente quelle che dovrebbero essere le più importanti innovazioni del nuovo ciclo quinquennale del piano, ora in fase di aggiornamento, come detto in precedenza. Innanzitutto vengono introdotti precisi obiettivi quantitativi, come espressamente richiesto anche dalla Commissione europea. I principali di esse riguarderanno un aumento significativo delle superfici condotte con i metodi dell'agricoltura biologica e della produzione integrata certificata, ma si prevedono anche riduzioni delle vendite di talune sostanze attive, particolarmente pericolose, e una diminuzione dei ritrovamenti delle stesse nelle acque superficiali. Tali risultati dovrebbero essere ottenuti attraverso l'applicazione di idonee e coerenti misure previste all'interno del piano. La possibilità di conseguimento degli obiettivi del PAN è subordinata all'impiego di adeguate risorse finanziarie pubbliche. Poiché la direttiva non rega alcuna risorsa, il nuovo PAN fa espresso riferimento alla PAC post-2020, anche perché ci sono evidenti sinergie tra i due strumenti programmatici. Nella stesura del nuovo PAN si è tenuto ampiamente conto di tali sinergie. In realtà il piano rappresenta uno dei tasselli della strategia nazionale della futura PAC. È il caso di evidenziare che la PAC post-2020 sarà attuata attraverso la predisposizione da parte di ciascuno Stato membro di un documento strategico in cui devono essere individuati gli obiettivi che si intendono raggiungere nei sette anni di programmazione e le misure che sono funzionali al loro raggiungimento. Alcuni obiettivi e alcune misure coincidono con quelle del PAN. Le sinergie tra PAC e PAN le riscontriamo anche nella condizionalità futura post-2020, in quanto quattro articoli della direttiva 128 sono inseriti nella baseline che le aziende agricole che accedono ai pagamenti comunitari devono obbligatoriamente rispettare pena la riduzione o esclusione del premio. Esse riguardano la formazione e quindi il patentino, il controllo funzionale delle macchine aeroratrici, le misure a tutela dell'ambiente acquatico delle aree Natura 2000, la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari. Ma ci sono anche indicatori comuni, per esempio gli indicatori di rischio del PAN, sono gli stessi che misureranno, tra gli altri, i risultati della futura PAC. Uno dei temi che è stato affrontato nella stesura della bozza del nuovo PAN e che è stato oggetto di acceso confronto all'interno del Consiglio Tecnico Scientifico è la disciplina dei rapporti tra agricoltura e cittadini. In particolare sono state individuate misure atte a minimizzare l'impatto della miscela fitoiatrica sulla popolazione esposta, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno della deriva. La popolazione esposta comprende tutti i soggetti che frequentano aree pubbliche, ma anche le persone residenti in aree adiacenti a quelle trattate con prodotti fitosanitari. Nella slide vediamo due foto che riguardano due aree del paese in cui maggiormente si presentano situazioni di attrito, la zona del Prosecco in Veneto e l'area vivaistica del Pistoiese. In questa slide è riportato fedelmente il testo inserito nella bozza di PAN in revisione che individua le distanze da osservare nel caso in cui si effettuino trattamenti al confine con aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Fatta eccezione per pochi prodotti fitosanitari da utilizzare a distanze di almeno 50 e 40 metri, la maggior parte dei prodotti vanno utilizzati rispettando distanze di almeno 20 metri per le colture arbore e 15 metri per quelle erbacee. Tali distanze possono essere ridotte a 5 metri se si applicano misure di mitigazione della deriva. Durante la fase di consultazione pubblica sono pervenute numerosissime osservazioni e proposte di modifica del testo che tendono ad ampliare o a ridurre tali fasce a seconda se riconducibili al mondo ambientalista o al mondo agricolo. Ciò a dimostrazione delle enorme difficoltà che si incontra quando è necessario conciliare esigenze legittime ma di segno opposto. Uno dei temi più importanti da affrontare con il nuovo PAN è la comunicazione. L'attenzione della popolazione intesa come consumatori e come cittadini per i prodotti fitosanitari è altissima. Nella slide sono riportati alcuni esempi di come oggi viene fatta comunicazione sui pesticidi. Il pericolo è spesso rappresentato come il simbolo di morte. L'obiettivo della comunicazione istituzionale invece dovrebbe essere quello di rappresentare in maniera equilibrata lo scopo dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari talvolta indispensabile per poter difendere adeguatamente le culture per assicurare il cibo ad una popolazione sempre crescente. Andrebbero evidenziati gli sforzi che il settore agricolo e la ricerca stanno facendo da diversi anni per diminuire gli effetti negativi dovuti all'uso delle sostanze chimiche. Negli ultimi anni, grazie anche all'applicazione del regolamento 1107-2009, la disponibilità di sostanze attive si è ridotta da circa mille a poco più di 400. Ciò significa che le procedure per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari sono diventate molto più restrittive per garantire una maggiore tutela dell'ambiente e una maggiore sicurezza per gli operatori e per i consumatori. Siamo giunti alla fine di questa breve analisi del complesso tema dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Non abbiamo trattato alcuni argomenti che sono non meno importanti, quali la tutela dell'ambiente acquatico, delle aree Natura 2000 e dell'uso dei prodotti fitosanitari in ambito extraagricolo. In conclusione possiamo affermare che per ridurre il rischio e per rendere sostenibile l'uso dei prodotti fitosanitari non è sufficiente imporre regole e restrizioni. La cosa più difficile, ma necessaria, è adeguare i comportamenti. È necessario pertanto investire informazione per aumentare la consapevolezza da parte degli utilizzatori. La slide che vedete è emblematica da questo punto di vista e in questo processo educativo è fondamentale il ruolo dei consulenti, dei tecnici, che dovranno anch'essi essere formati adeguatamente sul tema dell'uso dei prodotti fitosanitari, tema che in futuro sarà sempre più al centro delle politiche e dell'attenzione dei consumatori e dei cittadini.